Siamo qui alla Tregolfi a Napoli, una regata bellissima, un percorso stupendo e un bellissimo club nautico dove si organizzano bellissime feste ma noi in realtà faremo una regata contromana che è una barca identica a Maserati saremo tutte e due in versione Mod 70 quindi sarà una regata molto dura perché le barche sono identiche e basta un niente per perdere metri preziosi il meteo non è dei migliori, ci sarà pochissimo vento per cui sarà lunga e combattuta